Come dichiarato in esclusiva dai medio bianchi per Caserta Sera, la disciplinare ha condannato il gioventù calciodauna per illecito sportivo. Di conseguenza il Treppini Matese, che era secondo in classifica, ora proda in Serie D. Grande entusiasmo a Piedimonte Matese e noi abbiamo ascoltato per voi il presidente Marcellino Pepe. Presidente, quando ha preso la notizia e soprattutto una notizia inaspettata immagino? Assolutamente sì, stamattina mi ha telefonato il direttore sportivo Carlo Rolfreda dandomi la bellissima notizia. Ci ho messo un po' di tempo per realizzare l'accaduto, tra l'altro poi notizia confermata da quanto è scritto sul comunicato ufficiale, quindi è da lì che ho preso intanto coscienza della realtà dei fatti. Stamattina è stato poi un escursus di tutta una serie di telefonate, messaggi. Un'elezione a catena. Sì, che continua ancora adesso. Tra l'altro in questo momento sono tutti quanti ragazzi, tifosi, sindaco, dirigenti, che stanno aspettando a Piedimonte Matese per poter iniziare un breve festeggiamento per la promozione inaspettata in Serie D. Una bella soddisfazione ma anche un bel impegno. Cosa si prevede per quanto riguarda l'assetto della squadra, campagne acquisti, allenatore confermato oppure no? Allora, partiamo dal presupposto che un'associazione come il Treppini Matese da questo momento in poi si trova catapultata in una realtà che è totalmente diversa da quella che ha vissuto negli ultimi anni. Sicuramente dobbiamo mettere in atto una rivoluzione all'interno della società, all'interno di tutto il nostro territorio con il quale ci confrontiamo quotidianamente. Sento il peso ovviamente della responsabilità che ho, ma insieme a tutti quanti i dirigenti, perché dobbiamo sfruttare al meglio e al massimo tutte le opportunità che vengono da questa nuova categoria che ci catapulta in un'ottica nazionale. Noi siamo pronti, nel senso che qualcosa già l'avevamo messa nel cassetto, in ottica anche di una possibile, quando improbabile, pensavamo, sentenza della Procura Federale che ci portava a essere i campioni del campionato di eccellenza e quindi andare in Serie D. Ci siamo. Per quanto riguarda poi campagne acquisti e allenatore, è molto prematuro parlarne. Sono sicuro che comunque manderemo sempre il target che abbiamo sempre proposto in questi anni, nel senso che nei limiti del possibile, nei limiti anche della caratura tecnica che ci troviamo ad avere oggi, noi abbiamo comunque prediletto da sempre e continueremo a prediligere una compagine tecnica territoriale, anche comunque con una sorta di rinforzi necessari, che poi da dove verranno, insomma, questo dobbiamo ancora vederlo. Il tecnico Mario Morra adesso si gode la vittoria meritatissima per il grande lavoro che ha svolto e per le grandi qualità, oltre tecniche, ma anche umane, che ha dimostrato in tutto questo campionato. Oggi dire, insomma, in questa rivoluzione della quale parlavo prima, ci mettiamo prima in discussione noi come società, ma nell'assetto e nell'organizzazione, anche nella mentalità, quindi voglio dire, poi a catena verranno tutte e quante le decisioni. La lascio andare a festeggiare il Presidente, è ancora compito. Grazie ancora.